Arrestato con l'accusa di tentato omicidio, l'uomo protagonista della lite è venuta a Lecce e sfociata con l'accoltellamento di un uomo ferito ad una gamba. Udienze rinviate al 31 luglio, il settore della giustizia in gravi difficoltà, avvocati in ginocchio, situazione ormai al limite. Torna dopo quasi due mesi nel suo ufficio il comandante della polizia locale di Brindisi, Antonio Refice, che ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19. Assemblea di Lega Pro, stop al campionato, sia le promozioni dalla D, ma nessuna retrocessione. Per la B, favorita il Carpi, si decide per merito sportivo, Francavilla applaude, Bari furioso. A tutti buon pomeriggio, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con i fatti di cronaca regionale. Dunque il prossimo 18 maggio in Puglia riapriranno parrucchieri, estetisti e centri estetici. Vediamo il servizio. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato nella serata del 7 maggio un'ordinanza che anticipa al 18 maggio l'apertura di parrucchieri, centri estetici e di bellezza, rispetto invece alle disposizioni del governo che ne prevedono l'apertura al 1 giugno. L'ordinanza è stata emessa al termine dell'incontro con i rappresentanti pugliesi di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, al quale ha partecipato anche il professore Pierluigi Lopalco, che ha illustrato le linee guida del provvedimento. Sarà necessario rispettare il principio del distanziamento fisico, dell'igiene delle mani e delle persone, della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro. Oltre all'uso dei dispositivi di protezione individuale, laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo. L'accesso ai servizi dovrà avvenire esclusivamente su appuntamento. Insomma, torna a rivedere la luce in fondo al tunnel, un altro settore messo in ginocchio dall'emergenza sanitaria Covid-19. La mancata osservanza degli obblighi previsti nell'ordinanza comporterà conseguenze sanzionatorie. E adesso l'emergenza coronavirus. In Puglia 49 nuovi casi positivi di Covid. Intanto il dottor Lopalco dice che non ci sono nuovi focolai. Sentite. Lieve incremento della curva dei contagi da coronavirus, come riporta il bollettino diffuso dalla regione Puglia. Sono stati registrati 1.852 test e sono risultati positivi 49 casi, di cui 29 a Bari. Ma il professor Pierluigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della regione, spiega che l'aumento relativo del numero di casi fa riferimento a code di focolai già sotto osservazione. Si tratta quindi di persone già in isolamento fiduciario, monitorate, asintomatiche o con sintomi lievi. Nel dettaglio i casi di portati sono così suddivisi 29 nella provincia di Bari, 0 nella provincia Bat, 3 nella provincia di Brindisi, 10 nella provincia di Foggia, 2 nella provincia di Lecce e 2 nella provincia di Taranto. Per 3 casi è in corso di attribuzione la provincia di provenienza. Sono stati registrati anche 3 decessi, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi e 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 72.796 test in totale, 1.4 sono i pazienti guariti, 2.800 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi covid in Puglia è di 4.245, così divisi 1.362 nella provincia di Bari, 380 Bat, 600 nella provincia di Brindisi, 1.098 nella provincia di Foggia, 502 nella provincia di Lecce, 270 nella provincia di Taranto. 28 sono attribuiti a residenti fuori regione, 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Non risulta, nonostante l'aumentata attività di sorveglianza, alcun nuovo focolaio importante sul territorio regionale. Ha continuato allo palco, la curva dei casi si è comunque stabilizzata intorno a una media giornaliera di circa 20 nell'ultima settimana e da più di un mese in continua diminuzione. Tra pochissimo il nostro notiziario di Taranto e provincia. Ed eccoci alle notizie della provincia ionica, una serie di interventi da finanziare a Taranto con i finanziamenti provenienti dal cosiddetto contratto istituzionale di sviluppo. Oggi in prefettura a Taranto c'è stato un nuovo vertice per accelerare le procedure, intanto dopo il cosiddetto lockdown riprende l'attività anche nel porto ionico, il servizio d'apertura. Importante vertice in prefettura a Taranto con i referenti delle amministrazioni responsabili degli investimenti programmati e ammessi al finanziamento nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto. Ha presieduto i lavori il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il senatore Mario Turco, alla presenza del prefetto Demetrio Martino. Si è trattato di un vertice in preparazione al prossimo tavolo istituzionale programmato per maggio. Tra i temi trattati l'investimento del gruppo Ferretti per lo sviluppo della nautica a Taranto, l'acquisto dell'edificio dell'ex Banca d'Italia da destinare alla facoltà di medicina e le infrastrutture da realizzare nella città vecchia. I nuovi obiettivi che noi ci siamo dati sono, da una parte, accelerare gli interventi che possono essere realizzati, riprogrammare quegli interventi che sono irrealizzabili e soprattutto inserire degli interventi nuovi, sia di natura pubblica sia di natura privatistica, che abbiano tre obiettivi essenziali, che siano, diciamo, sia moltiplicatori sociali, ma soprattutto dei moltiplicatori imprenditoriali ed occupazionali. Con lo sblocco del lockdown sono riprese anche le attività al porto di Taranto, è quanto ha sottolineato il presidente dell'autorità di sistema portuale, Sergio Prete. Finalmente con lo sblocco del lockdown sono riprese una serie di attività, in particolare stanno gradualmente riaprendo tutti i cantieri, chiaramente con delle nuove prescrizioni di sicurezza e anche con un necessario breve rallentamento dei lavori, ma per fortuna si stanno superando tutte le criticità legate alla infrastrutturazione. Nel contempo, appunto, proprio in questi giorni sono ripresi lavori anche di manutenzione delle gru da parte di Ilport, proprio per garantire lo sblocco e la ripartenza del terminal durante l'estate. E adesso parliamo della crisi della giustizia. Odienze rinviate fino al prossimo 31 luglio a Taranto. Il settore è di fatto bloccato. Gravissime le conseguenze per gli avvocati e per i cittadini privati di un loro diritto. Il presidente dell'ordine e gli avvocati di Taranto lancia un appello. Sentitelo. Comincia a diventare insostenibile la situazione in cui versano gli avvocati. Il Tribunale di Taranto ha rinviato quasi tutte le udienze al 31 luglio. Di fatto fermi sino al prossimo autunno perché ad agosto non ci sono udienze da sempre. Gli avvocati sono in ginocchio, le attività sono bloccate per un periodo di nove mesi, senza alcuna garanzia sui tempi della ripresa. Una vera paralisi del settore giustizia che sta creando gravissimi danni anche a chi si trova in attesa di giudizio, sia sul fronte penale che civile. L'attività e smart working del personale amministrativo del Ministero della Giustizia, come quella dei cancellieri, è notevolmente limitata per l'impossibilità di accedere, tramite le udienze domestiche, alle pratiche da elaborare sui database dell'internet del Ministero. Al momento non è ipotizzabile l'avvento della pandemia. Non si conoscono i programmi ministeriali per aumentare il numero di udienze realizzabili, anche tramite nuove tecnologie. Fedele Moretti, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tavio. A questo punto è importante che, da un punto di vista proprio dell'esecutivo nazionale, ci sia una maggiore attenzione, una migliore programmazione, e soprattutto l'implementazione dei servizi telematici che consente ai dipendenti di accedere ai sistemi informatici anche da casa, in modalità smart working. Tutto questo permetterebbe un migliore servizio in favore dei cittadini e degli avvocati. A questo dobbiamo tendere. Le pressioni vanno in questa direzione e speriamo che veramente ci sia un occhio particolare nei confronti di questo servizio. Con la riapertura dei cantieri rientra nel vivo anche l'attività degli architetti tarantini con tutti i problemi da affrontare relativi al post-emergenza e l'analisi su possibili cambiamenti all'interno delle città. Sentiamo Leo Spalluto. Gli architetti di Terra Ionica non si sono mai fermati, ma anche la loro attività riprende appieno con la riapertura dei cantieri. Ne abbiamo parlato con Massimo Prontera, presidente dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Taranto, che prova anche ad immaginare come saranno le città dopo il coronavirus. Noi come categoria professionale abbiamo vissuto, chiaramente come tutte le altre categorie professionali, la difficoltà di avere, nel nostro caso addirittura il paradosso, di aver potuto continuare un'attività professionale anche direttamente dal proprio studio, perché eravamo considerati all'interno di quei codici ateco, famosi codici ateco delle professioni strategiche per il Paese, ma con il paradosso di non poter poi esercitare la nostra professione in maniera completa attraverso chiaramente i cantieri edili nei quali lavoriamo solitamente. Quindi questa strana situazione che si è sbloccata sostanzialmente giorno 4 con la riapertura dei cantieri, che quindi sta vedendo un po' una ripartenza, chiaramente graduale nel primo periodo, ma che speriamo tutti possa essere definitiva immediatamente dopo il 18 di maggio. La conformazione degli studi professionali italiani, in particolare del nostro territorio, è una conformazione di studi di dimensione medio-piccola, quindi sicuramente gli studi professionali medio-piccoli hanno risentito della chiusura delle proprie attività e comunque del blocco forzato di tutto il comparto edilizio in maniera sicuramente maggiore di studi professionali più strutturati e più grandi anche dal punto di vista numerico. È chiaro che la situazione è complessa, stiamo cercando di monitorare anche realmente un po' lo stato dell'arte anche delle varie situazioni che interessano i nostri studi e cercheremo chiaramente per quanto c'è possibile come ordine professionale di venire incontro, già lo abbiamo fatto con piccoli interventi che riguardano il nostro bilancio, la possibilità di pagare con un certo ritardo anche la nostra quota di iscrizione, però cercheremo anche di supportare i nostri colleghi anche in altre possibilità. L'organizzazione di una città, l'organizzazione dei tempi di una città e anche le modalità di erogazione di alcuni servizi dovranno modificarsi. Pensiamo al trasporto pubblico, pensiamo all'incentivazione della mobilità dolce sul territorio, tutta una serie di situazioni che possono essere velocizzate attraverso dei processi che possono sicuramente rendere più facile la vita dei cittadini in un momento di ripartenza immediatamente dopo il momento emergenziale. Siamo adesso alla cronaca, è stata una vera e propria nottata d'inferno a Taranto e provincia a causa di due incendi che hanno severamente impegnato i vigili del fuoco. Poi il primo, poco dopo l'una di notte a Statte all'interno di un parcheggio condominiale e poi in un cantiere sul tratto di mare che costeggia San Vito. Vediamo il servizio. Due incendi hanno animato la scorsa notte a Statte a Taranto. Il primo rogo si è sviluppato alla periferia dell'ex Borgata in via Teatro La Fenice all'interno di un parcheggio condominiale. Le fiamme hanno avvolto e distrutto quattro automobili. L'episodio si è verificato dopo l'una della scorsa notte. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi provenienti dal comando del capoluogo ma è stato necessario il supporto dei colleghi dislocati al porto. Potrebbe essere dolosa la natura del rogo ma non è stato ancora accertato. Sul posto i carabinieri della stazione di Statte che hanno avviato le indagini. L'altro incendio è avvenuto all'alba di oggi sul molo di un rimessaggio di imbarcazioni con annesso cantiere a fuoco, una barca in vetroresina. Le fiamme si sono poi propagate ad un natante che si trovava nei pressi. Il tutto è accaduto in Viale Ionio sulla strada che collega Taranto a San Vito. Anche in questo caso si sospetta la natura dolosa e indagano gli uomini della Polizia di Stato intervenuti con i vigili del fuoco. Cambio al comando della scuola volontari dell'aeronautica militare di Taranto. Abbiamo raccolto le prime dichiarazioni del colonnello Giovanni Riganti, nuovo comandante. Passaggio di consegne al comando della scuola volontari della nostra aeronautica militare. Il colonnello Giovanni Riganti subentra al colonnello Gianluca Capasso. Il passaggio del testimone è avvenuto senza la tradizionale suggestiva cerimonia formale in linea con le prescrizioni dettate dall'emergenza. Il colonnello Capasso ha ringraziato il personale militare e civile della scuola per il lavoro svolto con passione. Il colonnello Riganti, accettando il prestigioso incarico, ha manifestato la volontà di impostare un'azione di comando nel segno della continuità. Buongiorno ed un saluto a tutti i telespettatori di Canale 85. Sono il colonnello Giovanni Riganti e da ieri, 7 maggio, sono stato nominato nuovo comandante della scuola volontari dell'aeronautica militare. Desidero esprimere innanzitutto il mio più profondo orgoglio per aver assunto questo incarico in una città come Taranto dalle antiche tradizioni militari e ricca di storia e di cultura. La scuola, come sapete, a causa della situazione emergenziale in atto, pulse con modalità a distanza continua fermamente nel suo ruolo istituzionale, grazie a una piattaforma di apprendimento online che permette ai nostri frequentatori di proseguire e concludere il proprio percorso di studi. Durante il mio mandato, come già annunciato nel mio discorso di insediamento, intendo proseguire nel solco dei miei predecessori ponendo tra i miei obiettivi principali la centralità dell'allievo, il benessere del personale, la promozione delle tradizioni e dei valori etici e morali della mia Forza Armata. Sono certo che la scuola volontari continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l'intera città con la quale questo istituto vanta un profondo e antico legame. Ora, nella speranza di poterci incontrare quanto prima, rivolgo a tutti voi l'augurio più sincero per un rapido ritorno alla normalità. E adesso ci spostiamo al rione Tamburi di Taranto, dove c'è stata una serie di sopralluoghi da parte dei tecnici della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Taranto, responsabili dei lavori di bonifica delle scuole Vico De Carolis, del quartiere Tamburi. Interessate nei mesi scorsi, come ricorderete, da esalazioni di Gas Radon, rilevato dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Puglia, all'interno di alcuni ambienti che sono stati opportunamente interdetti all'utilizzo da parte della popolazione scolastica. Le verifiche effettuate hanno dato esito positivo e il collaudo delle attrezzature ha confermato il loro perfetto funzionamento. Nei prossimi giorni, come previsto dalla normativa, la Direzione provvederà a comunicare ad ARPA Puglia la fine dei lavori e il rispetto del progetto approvato e concordato per le eventuali verifiche e le misurazioni di propria competenza. L'Amministrazione Comunale di Taranto ha come unico interesse quello di lavorare per garantire la sicurezza in ogni sua forma e quanto fa sapere l'Assessore dei Lavori Pubblici del Comune Ionico, Ubaldo Occhinegro. E adesso una segnalazione restando al quartiere Tamburi. Abbiamo raccolto le proteste di alcuni cittadini residenti negli alloggi popolari in via volta. Hanno evidenziato una serie di disagi chiedendo l'intervento dell'ente proprietario degli immobili. Siamo al rione Tamburi in via volta alcuni cittadini residenti nelle abitazioni di edilizia popolare hanno chiesto l'intervento della nostra redazione per segnalare alcune situazioni di disagio legate ai loro alloggi. Vengono evidenziate problematiche all'impianto fognario di alcuni appartamenti che creerebbero problemi igienico-sanitari. Poi su rivestimenti esterni ci viene segnalata la presenza di presunte lesioni in alcuni casi il distacco di mattonelle. Alcuni dei residenti attraverso la nostra telecamera chiedono un intervento dei tecnici di Arca Ionica ente proprietario degli immobili per una valutazione dello stato delle cose e se necessario programmare interventi di manutenzione. Abbiamo ascoltato oltre agli inquilini anche Pino Miceli che rappresenta l'associazione degli stessi inquilini. I problemi io ho fatto qualche tempo fa due, tre, quattro mesi fa una richiesta all'assessore regionale alle politiche abitative chiedendo un'ispezione da parte della regione per vedere come sta la situazione di queste palazzine. Intanto raccogliamo la testimonianza di uno dei cittadini residenti all'interno di queste palazzine di edilizia popolare. Qual è la situazione nella sua casa? Per quanto mi riguarda dall'anno scorso abbiamo chiamato l'istituto perché nella mia casa i liquami non vanno a finire più in fogna ma finiscono nella camera d'aria con presenza di topi nei muri se andiamo vi faccio vedere anche il buco che ho fatto e scaravaggio però quello che adesso è importante è il liquame che esce dal bagno. Dopo il blocco forzato delle attività per l'emergenza Covid-19 l'amministrazione comunale di Taranto intende ripartire con tre lotti dei lavori di rifacimento previsti nel grande piano delle strade dei marciapiedi della città ionica al quartiere Paolo VI si è terminato inviato gli atti un intervento con la segnaletica verticale e orizzontale a breve si saranno avviati i lavori in via Toscana per il rifacimento integrale dei marciapiedi e il completamento in via Veneto ricominceremo ha detto l'assessore Ubaldo Ochinegro anche a Talzano in tutte le vie del centro storico lavori per l'installazione di un'antenna non autorizzati a Talzano su segnalazione dei cittadini residenti nella zona sono intervenuti Carabinieri e Polizia Locale vedete la Polizia Locale e i Carabinieri sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele in pieno centro a Talzano borgata alle porte di Taranto dove era stata segnalata da alcuni cittadini la realizzazione di alcuni lavori che non sarebbero stati autorizzati sul posto gli agenti della Polizia Locale hanno verificato la documentazione ed è emerso che c'era soltanto una richiesta quindi sono stati elevati due verbali per occupazione abusiva del suolo pubblico e lavori non autorizzati il tema delle antenne fa sapere l'assessore Cataldino un argomento sensibile per molti cittadini e per questo ha voluto verificare di persona quanto stesse accadendo l'amministrazione comunale di Taranto ha un regolamento sulle installazioni che va rispettato e soprattutto a prescindere dal periodo particolare l'amministrazione farà una verifica dell'esistente per scongiurare difformità i cittadini di Taranto vanno tutelati e nessuno dovrà pensare che l'impegno profuso per il contrasto alla pandemia possa provocare disattenzione verso il controllo del territorio in termini di sicurezza legalità che stiamo all'interno della città ci spostiamo al rione Italia Montegranaro di Taranto la direzione lavori pubblici ha provveduto alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti danneggiati a seguito di guasti e quanto fa sapere Palazzo di Città in una nota stampa pertanto è stata ripristinata la pubblica illuminazione in tutta piazza Sicilia che come sapete è una zona molto trafficata e adesso ci occupiamo di un problema che si è venuto a creare nella città di Taranto il mondo dello sport di base è infatti in fermento la crisi economica legata al coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio tantissime associazioni sportive dilettantistiche più note con la cronico ASD per supportarle si registra l'impegno di alcune amministrazioni comunali vediamo quale sarà questo impegno nel servizio che segue anche il mondo dello sport di base delle associazioni sportive dilettantistiche è in grave difficoltà economica dopo l'emergenza coronavirus molte potrebbero anche non riaprire il delegato provinciale della CONI Michelangelo Giusti descrive ai nostri microfoni le difficoltà del momento uno spiraglio arriva dall'interlocuzione positiva con il comune di Taranto e altre amministrazioni locali del territorio la situazione è diri drammatica perché da un punto di vista sportivo ma per le ASD del territorio anche da un punto di vista economico praticamente le ASD continuano a sostenere costi anche rilevanti senza poter fruire di quei pochi introiti che già normalmente percepiscono e che consentono alle ASD di andare avanti solo per la passione e per dei tecnici e dei dirigenti quindi questi costi sicuramente sono sostenuti non c'è attività ma anche nel prossimo futuro la situazione non sarà di certo delle migliori in quanto per avviare l'attività dovranno essere messe in atto diverse iniziative per sanificare gli ambienti però l'impegno del sindaco e dell'assessore Marti ci ha rincuorato adesso vedremo quali soluzioni adottare nell'ambito di queste limitazioni oggettive purtroppo che anche l'amministrazione comunale di Taranto deve affrontare altri comuni hanno risposto tra questi ad esempio Grottaglie proprio l'assessore Quaranta si è reso anche lui disponibile a dare una mano alle ASD di quel comune sfruttando anche probabilmente fondi che erano riservati a Grottaglie città europea dello sport che purtroppo anzi per sfortuna non diciamo non si sta svolgendo oggi 8 maggio tradizionalmente a Taranto si celebra la processione a mare della statua del Santo Patrono a San Cataldo ma come sapete per l'emergenza coronavirus tutto questo non sarà possibile soltanto una cerimonia in forma ridotta peraltro già realizzata a sorpresa e segretamente se così si può dire dalle autorità ecclesiastiche insieme con i vertici dell'amministrazione comunale e il tutto verrà proposto in streaming e vi proporremo anche su questa emittente quello che è accaduto per continuare dunque a celebrare San Cataldo che come sapete è il santo patrono di Taranto intanto c'è una vera e propria gara di solidarietà o meglio è stato sottoscritto un protocollo sulla solidarietà a Palazzo di Città si sono unite due associazioni benefiche di volontariato e hanno stanziato 70.000 euro per aiutare le famiglie indigenti circa 1300 persone tarantine vedete questo servizio 70.000 euro per aiutare circa 1300 persone la somma che le associazioni ABFO e Noi e Voi mettono a disposizione di persone e famiglie indigenti di Taranto firmato a Palazzo di Città un protocollo operativo con il sindaco saranno inoltre resi altri servizi come attività telefonica di sportello sociale centralino attivo diverse ore al giorno i presidenti delle associazioni ABFO e Noi e Voi Andrea Occhinegro e Don Francesco Mitidieri hanno unito le loro risorse umane ed economiche per dare vita ad una rete di solidarietà il protocollo prevede che le richieste di intervento da parte dell'assessorato ai servizi sociali o da altri enti dovranno avvenire attraverso un sistema di codici di urgenza simili a quelli utilizzati al pronto soccorso codice bianco necessità bassa giallo aiuti in tempi ristretti codice rosso aiuti in tempi molto rapidi noi come assoluto ci siamo con l'assessorato ai servizi sociali questa idea anche innovativa del triage insomma di catalogare i bisogni di dargli una priorità e quindi ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche e private che in qualche maniera si raccolgono per le famiglie le persone più fragili è veramente un fatto importante e io spero che possa essere come dire una buona pratica che si propaga lentamente perché la solidarietà non deve essere un fatto estemporaneo legato all'emergenza ma ci piacerebbe che diventasse in questa città un fatto fondativo del nostro stare insieme e credo che il protocollo di oggi vada in questa direzione è un'iniziativa comunque che noi riteniamo molto importante perché sicuramente in tutta Italia e quindi anche nella nostra città sta aumentando la povertà le famiglie diciamo sono sempre più bisognose ed era necessario in qualche maniera rafforzare questa rete creare questa rete e rafforzarla e ringrazio con l'occasione anche l'amministrazione comunale perché sicuramente anche in questa occasione anche questa volta siamo riusciti un po' a come dire a serrare i ranghi e cercare in qualche maniera di unire gli sforzi e questo protocollo prevede innanzitutto quello di poter dare una strutturazione agli aiuti che si sta cercando di dare in questo periodo di emergenza per il contagio del Covid-19 e l'idea fondamentale è quella proprio di lavorare in rete collaborando con le istituzioni e con le altre associazioni che sono presenti sul territorio proprio per cercare di dare maggiormente aiuto a chi maggiormente ha bisogno e cercare di sostenere anche quelle situazioni ecco che sono di particolare fragilità in questo momento ed eccoci alle notizie dedicate a Brindisi e Provincia sotto riflettori e in primo piano ancora la vicenda dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana fino a quando non si conosceranno gli esiti dei tamponi effettuati al personale sanitario e ai degenti ribarranno sospesi i ricoveri al reparto di ortopedia dell'ospedale della città degli imperiali ieri sera il sindaco Antonello Denuzzo ha annunciato che il numero dei contagiati in città è salito a 33 come ci spiega Gianni Candalini fino a quando non si conosceranno gli esiti di tamponi effettuati al personale sanitario e ai degenti che sono venuti in contatto con i pazienti positivi al covid-19 rimarranno sospesi i ricoveri al reparto di ortopedia dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana sono assicurate solo le richieste di visite urgenti qualora dovesse essere necessario il ricovero il paziente verrebbe dirottato al perrino di Brindisi o in altri in ossocomi la direzione sanitaria è disposto la temporanea sospensione dei ricoveri e la programmazione dei tamponi per i pazienti ricoverati e i medici e infermieri del reparto saranno sanificate in maniera accurata le stanze i locali e gli arreddi del reparto di ortopedia un'operazione che potrà essere effettuata in una giornata il problema principale è legato però ai tempi di attesa di tutti i tamponi effettuati ieri sera il sindaco Antonello Denunzo ha annunciato che il numero dei contagiati in città è salito a quota 33 per la maggior parte dei casi si tratta di persone già sottoposte a quarantena e che appartengono allo stesso nucleo familiare Forza Italia è preoccupata per le notizie che arrivano dai due più importanti pressi ospedalieri della provincia di Brindisi il Perrino di Brindisi e il Camberlingo il vice coordinatore provinciale Mimo Bungaro rivolge un appello ai primi cittadini a tutt'oggi si naviga a vista dichiara Bungaro e non certamente i problemi possono risolversi chiedendo ancora verifiche o esplorazioni bisogna agire con grande determinazione continua ancora Bungaro e tutti i sindaci della provincia di Brindisi dovrebbero avere questo scatto di orgoglio abbandonando una volta tanto la casacca di appartenenza politica il comitato di tutela degli interessi diffusi di Francavilla Fontana nato il 24 marzo scorso per fare fronte alla preoccupante carenza di informazioni sulla situazione epidemiologica di Francavilla ha chiesto al direttore generale dell'Ase di Brindisi al prefetto di Brindisi ma anche per conoscenza al presidente della giunta regionale e dai sindaci di Brindisi e Francavilla di voler emettere giornalmente i dati del monitoraggio e intanto vi sono tre nuovi casi di positività al coronavirus nell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana si tratta di pazienti del reparto di ostetricia lo fa sapere insieme con altre cose la CGL funzione pubblica con un comunicato stampa il sindacato manifesta una forte preoccupazione per l'aumento dei casi di coronavirus nell'ospedale di Francavilla Fontana il Camberlingo è stato dichiarato dalla direzione ASL di Brindisi ospedale no covid adibito ad accogliere pazienti provenienti da tutta la provincia Brindisina e garantendo così tutte le urgenze nonostante le misure adottate per il contenimento del contagio del virus covid-19 qualcosa è andato storto scrive la CGL all'ospedale di Francavilla Fontana è stato chiuso nel giro di pochi giorni il reparto di ortopedia e sono stati bloccati i ricoveri di medicina entrambi i reparti sono stati sanificati tre casi accertati di positività come dicevamo tra i pazienti dell'ostetricia nonostante le misure di pre-triage o front office adottate il personale in queste ore si sta sottoponendo allo screening a seguito degli accertamenti di casi di positività al covid-19 risulta inoltre conclude la CGL che molti operatori sanitari del Camberlingo siano sprovvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale definiti dai protocolli operativi la funzione pubblica della CGL chiede alla direzione sanitaria una rapida soluzione delle problematiche elencate affinché l'ospedale di Francavilla Fontana possa ritornare ad essere un luogo sicuro sia per il personale che per i degenti il tribunale amministrativo regionale dà ragione alla ASL e sospende l'ordinanza della sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo relativa alla riapertura dei reparti di chirurgia e ortopedia del nosocomio della città bianca il TAR di Lecce sospende l'ordinanza del sindaco di Ostuni dando ragione alla ASL il sindaco Cavallo come si ricorderà aveva intimato alla ASL di Brindisi di riattivare i reparti di chirurgia e ortopedia almeno per le urgenze reparti invece interessati da lavori di restyling il programma prevede la conclusione dei lavori entro il prossimo 31 maggio nel reparto di chirurgia e nello spazio antistante e blocco operatorio così da consentire la riattivazione in comune delle attività chirurgiche e ortopediche la conclusione dei lavori nel reparto di ortopedia invece è prevista per il prossimo 31 luglio sono intervenuto con l'ordinanza per risolvere l'emergenza sanitaria causata dalla chiusura dei reparti ed evidenziata dal ripetersi di disservizi che hanno visto e vedono protagonisti i cittadini ha detto il sindaco Cavallo i fatti dicono che nel programmare i lavori il problema delle urgenze doveva essere affrontato diversamente al quadro già difficile si è aggiunta la chiusura del reparto di ortopedia di Francavilla Fontana ora l'unico reparto operativo nella nostra ASL è quello del perrino di Brindisi sulla vicenda interviene anche l'ex presidente della provincia Domenico Tanzarella è noto a tutti quello che sta avvenendo in ospedale a Ostuni afferma Tanzarella e da questo si aggiungono i guai di Brindisi e di Francavilla Fontana non ci sono più parole per descrivere il disastro della nostra sanità grazie ad una gestione inguardabile mi chiedo come faccia il governatore della Puglia Emiliano a non rendersi conto di quello che sta accadendo in questa provincia conclude Domenico Tanzarella proseguiamo il nostro TG dedicato alla cronaca di Brindisi e provincia primo giorno di lavoro dopo quasi due mesi di quarantena per il comandante della polizia locale di Brindisi Orefice vediamo il servizio torna dopo quasi due mesi nel suo ufficio il comandante della polizia locale di Brindisi Antonio Orefice che ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19 e non nasconde la sua emozione unita alla voglia di immergersi a pieno nel suo lavoro a servizio della comunità è quasi una sorta di primo giorno a scuola posto che dal punto di vista lavorativo o strettamente lavorativo in realtà non ho mai interrotto nemmeno per un giorno è chiaro che il contatto perlomeno visivo comunque ravvicinato con i collaboratori non mi abbia lasciato indifferente ma anche gli spazi i luoghi che abitualmente frequento da ormai due anni e mezzo per molte molte ore al giorno anche se devo dire la verità non mi è sembrato siano passati due mesi dal mio ultimo ingresso in questa stanza però emozione sì ma preso soprattutto dal da fare lo sguardo è ora rivolto a questa seconda fase di emergenza che deve trovare un equilibrio tra il controllo delle forze dell'ordine e la responsabilità dei singoli cittadini i collaboratori in questi due mesi si sono spesi non poco per assicurare quelle che sono le disposizioni di ogni livello insomma in primis quelle del governo non è stato e non è per niente un lavoro semplice anche perché diciamo gran parte soprattutto dal 4 maggio gran parte di quello che viene fatto è affidato alla responsabilità degli individui e dei cittadini è chiaro che ci siamo interveniamo però a poco basterebbe se non ci fosse la partecipazione attiva da parte dei cittadini voglio dire in uno stato di democrazia è fondamentale imprescindibile che siano proprio gli stessi amministrati a fare la loro parte e a consentire al sistema di funzionare l'ex presidente di Coffindustria Brindisi Patrick Marcucci rompe il silenzio a 4 giorni dalla sua destituzione con una nota con cui annuncia la decisione di impugnare il provvedimento da cui emergono indirettamente alcuni retroscena della clamorosa decisione sentiamo le motivazioni che hanno condotto gli organi di Confindustria a destituirmi a mio avviso sono ingiuste e ingiustificate e oltre a suscitare nella mia persona un'intensa amarezza mi motivano ad avviare una strenua difesa in tutte le sedi più opportune per tutelare la mia immagine e la mia stessa dignità personale e soprattutto per far emergere la verità l'ex presidente di Confindustria Brindisi Patrick Marcucci rompe il silenzio a quattro giorni dalla sua destituzione con una nota affidata ai mezzi di informazione pur non entrando nel merito della vicenda c'è un passaggio molto importante nel comunicato di Marcucci che sembra collegare in qualche modo almeno sotto il profilo temporale la destituzione dalla carica con la sua proposta di ridimensionare pare del 20% le consulenze di almeno tre dirigenti che inciderebbero sulle casse associative e di far ricorso ai fondi di integrazione salariale per sette dipendenti di Confindustria con l'obiettivo del contenimento dei costi nel periodo immediatamente successivo all'emergenza sanitaria indotta dal Covid-19 una proposta avanzata qualche giorno fa davanti al Consiglio Generale di Confindustria Brindisi pur nel rispetto del dovere di riservatezza che imposto dalla presenza di procedimenti di azione ancora in corso scrive Marcucci e che riguardano la tutela della mia persona sia sotto il profilo morale che sotto quello professionale anche della mia famiglia che in questo momento sta vivendo con angoscia e incredulità la situazione che mi ha coinvolto ci tengo ad avanzare queste doverose precisazioni l'ex presidente di Confindustria spiega di terminare il suo incarico nella consapevolezza di aver dato il massimo impegno personale e professionale per promuovere l'associazione e per rafforzarne il ruolo nella realtà economico sociale del territorio per di più considerando il difficile momento storico la parola passa ora ai suoi legali che dovranno valutare se impugnare il provvedimento solo presso il collegio nazionale dei provviviri entro 20 giorni come consentito dallo statuto interno dell'associazione o anche in sede civile ed eventualmente penale davanti al tribunale di Brindisi sono stati predisposti i mandati per l'erogazione del contributo all'integrazione dei canoni di locazione e quanto fa sapere l'amministrazione comunale di Brindisi dopo l'accredito del denaro erogato dalla regione Puglia grazie al contributo del comune di Brindisi con effetto di moltiplicatore e premiante il fondo totale ammonta a poco più di 665 mila euro una somma straordinaria rispetto agli anni passati si legge in una nota dell'amministrazione comunale di Brindisi in una situazione di sofferenza acuita dalla pandemia una risposta importante dell'amministrazione al disagio economico e sociale che da oltre un decennio sta lacerando la città questa misura e insieme a quelle dei buoni spesa che il comune ha erogato e continua ad erogare per ulteriori 879 mila euro e all'iniziativa Brindisi Solidale promossa dallo stesso comune con Caritas Croce Rossa insieme al mondo dell'associazionismo e del volontariato rappresenta uno sforzo ad una reazione importante al disagio amplificato dal covid-19 la cronaca nera e il tentativo di suicidio era soltanto una messa in scena perché in realtà poco prima aveva sequestrato la moglie di un noto imprenditore per ottenere un riscatto Francesco Margherito è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla squadra mobile di Brindisi le intenzioni suicide con una plateale messa in scena nei pressi di piazza Santa Teresa erano soltanto un maldestro tentativo di evitare l'arresto per un reato gravissimo sequestro di persona Francesco Margherito detto Franco Lalla pregiudicato Brindisino con un passato molto movimentato di tifoso di calcio proprio sfruttando vecchie conoscenze maturate nell'ambito sportivo ha sequestrato la moglie di un noto imprenditore locale chiedendo poi un riscatto di 100.000 euro senza riuscire nel suo intento e liberandola alcune ore dopo la squadra mobile di Brindisi lo ha tratto in arresto notificandogli il provvedimento di custodia cautelare nel carcere di Via Appia dove era già recluso per il possesso illegale della pistola con la quale diceva di volersi suicidare intorno alle 14 di giovedì 30 aprile Margherito si è appostato nei pressi dell'auto della donna parcheggiata all'esterno del suo posto di lavoro nel pieno centro della città approfittando del vecchio rapporto di conoscenza le ha chiesto un passaggio a casa si è sistemato sul sedile posteriore e appena fuori dal centro cittadino ha estratto una pistola e l'ha costretta a lasciargli la guida del mezzo girovagando per oltre un'ora per la periferia di Brindisi e contrattando con lei la somma del riscatto l'ha obbligata a chiamare il marito al quale ha chiesto telefonicamente la somma di 100.000 euro indicandogli un luogo per la consegna del denaro sul posto prestabilito Margherito ha fatto scendere la donna dall'auto e fatto salire l'imprenditore è iniziato un ulteriore girovagare sotto la minaccia della pistola durante il quale il sequestratore ha abbassato le sue pretese a 40.000 euro sino a quando compresa la reale impossibilità di ricevere immediatamente la somma ha raggiunto una stradina di campagna alla periferia della città è sceso dall'auto e si è allontanato a piedi lasciando libero il sequestrato nei minuti successivi il malvivente che veniva seguito con attività di localizzazione della squadra mobile ha inscenato il famoso tentativo di suicidio nel centro della città contattando con il telefonino però un carabiniere per fare in modo che fossero i militari dell'arma e non la polizia che lo inseguiva a intervenire subito dopo era stato arrestato per il possesso della pistola ma ora la sua situazione giudiziaria si è aggravata notevolmente cambiamo adesso argomento per la nuova gestione della biblioteca comunale di Francavilla Fontana l'ex senatore Oprepio Curto parla di un bando solitario stile Covid-19 vediamo di che cosa si tratta per la nuova gestione della biblioteca comunale di Francavilla Fontana l'ex senatore Oprepio Curto parla di un bando solitario stile Covid-19 Curto non entra nel merito del bando che come dice sicuramente sarà inercepibile sotto l'aspetto formale di legittimità dal momento che affermarla nella sua qualità di responsabile del servizio è colui che riveste anche la carica di segretario generale purtuttavia alcune perplessità sorgono naturalmente anche se sono di natura squisitamente politica o comunque di opportunità che aspetto per Curto dell'agire politico non tenuto in gran conto da parte dell'amministrazione Denuzzo a partecipare al bando si è presentata solo una cooperativa per l'ex senatore sarebbe stato forse opportuno riaprire i termini della gara per favorire una maggiore partecipazione e quindi un vero confronto tra diverse proposte progettuali per Curto una partecipazione solitaria inevitabilmente reica con sé legittimi dubbi l'ex senatore si rivolge poi ai tanti cultori e benpensanti locali e si chiede come mai è possibile che in una città come Francavilla Fontana non vi sia stato un solo contenitore culturale idoneo ad onerarsi di una sfida sicuramente non facile ma altrettanto certamente entusiasmante quale quella del rilancio della biblioteca comunale nessun operatore culturale della città degli imperiali si è fatto avanti la verità per l'ex senatore è che ormai dalle parti di Castello Imperiali Francavilla è diventata una sorta di grande salento ovunque trovi i tarantini leccesi o blindesini ma non francavillesi ed ora ci spostiamo a Mesagne l'impresa vincitrice dell'appalto non ce la fa ad affrontare i nuovi costi previsti dalle normative anti-covid e così ci pensa l'amministrazione comunale a integrare versando la differenza come dicevamo accade a Mesagne ma è un problema che si porrà per tutti i lavori edili appaltati prima dell'emergenza coronavirus sentiamo i lavori per la realizzazione di 112 nuovi loculi e altrettanti ossari nel cimitero di Mesagne stavano per saltare perché l'azienda vincitrice dell'appalto non era nelle condizioni di affrontare gli oneri aggiuntivi dovuti alle normative anti-covid e così l'amministrazione comunale è intervenuta versando la differenza circa 8 mila euro per dare il via al progetto ma sollevando anche un problema più generale relativo agli appalti edili sottoscritti prima dell'emergenza e che ora impongono alle ditte un aggravio dei costi di circa il 10% in più che potrebbe portare all'interruzione di centinaia di cantieri Il coronavirus ha determinato un aggravio dei costi anche rispetto ai lavori pubblici per cui per fare lo stesso lavoro le imprese sono costrette a munirsi di dispositivi ma anche costrette a riorganizzare il lavoro riorganizzandolo in modo tale da avere un costo superiore ovviamente la maggior parte delle gare dei cantieri che dovranno partire sono state fatte prima del coronavirus ora per rendere possibile che queste imprese vengano a lavorare occorre riconoscere appunto questi costi aggiuntivi ed è lo Stato che deve intervenire affinché si possa fare a 360 gradi noi nel frattempo per andare incontro all'impresa ma anche per andare incontro al nostro interesse che vogliamo che i lavori pubblici vengano effettuati perché potrebbero rinunciare le imprese se si rendono conto che non è più conveniente farlo abbiamo appunto riconosciuto queste spese a una ditta che sta effettuando i lavori all'interno del cimitero riapertura delle messe a Brindisi i parroci iniziano la fase organizzativa anche Brindisi si prepara a celebrare le messe con il popolo a partire da lunedì 18 maggio dopo la pubblicazione del protocollo che entrerà in vigore fra dieci giorni la comunità diocesana e Brindisina si è subito messa a lavoro per farsi trovare pronta la fase organizzativa in particolare in queste ore c'è stato un confronto informale tra i parroci che si ritroveranno in videoconferenza all'inizio della prossima settimana per un incontro operativo per concordare ed avviare una linea comune il tema principale più complesso ovviamente sarà quello della necessaria sanificazione quotidiana da svolgere dopo le celebrazioni sarà anche necessaria una mappatura della capienza massima per ogni chiesa in base alla normativa che prevede un distanziamento di un metro sia laterale che frontale per ogni singolo fedele servirà anche costituire una rete di volontari che si occupino del controllo delle fasi di ingresso e del flusso al momento delle celebrazioni e che impediscano assembramenti esterni nei pressi delle chiese poi ci sarà da valutare l'organizzazione degli orari delle celebrazioni con il protocollo firmato tra Comitato Tecnico Governo e CEI che prevede la possibilità dove è necessario di programmare più celebrazioni in modo da evitare possibili affollamenti La rimodulazione della Tari questa è la richiesta al Comune di Brindisi da parte del Consigliere Oggiano Rimodulare la Tari per le utenze non domestiche cioè per il vasto mondo che va dalle imprese al negozio di quartiere ridotta in proporzione ai giorni di chiusura determinati dall'emergenza sanitaria Covid-19 questa è la richiesta all'amministrazione comunale di Brindisi da parte del Consigliere Massimiliano Oggiano per Fratelli d'Italia è un'opportunità l'autority che si occupa da poco di vigilare di organizzare i servizi anche i servizi dei rifiuti in Italia soprattutto anche in riferimento alla tariffazione ha emesso una delibera che prevede l'obbligo da parte dei comuni di rimodulare i costi della stessa a carico delle utenze soprattutto non domestiche ovvero degli esercizi commerciali negozi di abbigliamento che a causa dei vari DPCM decreti che sono stati utilizzati emanati dal governo sono stati obbligati a chiudere mi sembra più che ovvio e più che legittimo che in quel periodo quantomeno almeno in quel periodo di chiusura la quota parte il ratio non venga corrisposto dalle utenze in questione quindi bisogna ricalcolare il tutto sarebbe stato ancora più opportuno evidentemente annullare completamente fino alla fine dell'anno tutti i ratei ma a questo cozza poi sui bilanci comunali degli enti locali che stanno evidentemente già scontando minori entrate chiudiamo con una notizia di cronaca nera che giunge dal capoluogo Brindisino la polizia in particolare la squadra mobile della questura di Brindisi ha arrestato un uomo di 52 anni già noto alle forze dell'ordine perché in seguito di una perquisizione effettuata all'interno della sua abitazione a Rione Paradiso sono state trovate delle dosi in tutto 24 di sostanza stupefacente ovviamente la droga è stata sequestrata prima di salutarci c'è una notizia che anticipa la nostra pagina sportiva come di consueto per quel che riguarda il Brindisi ancora a fase di riorganizzazione da parte della società in vista di quelle che saranno le decisioni della Lega e della Federazione della Federcalcio per stabilire l'interruzione del campionato di Serie D e comunque sarebbe all'ipotesi la decisione di confermare anche per la prossima stagione il tecnico Salvatore Ciullo chiudiamo qui questa edizione del nostro TG dedicata a Brindisi tra poco dopo lo stacchetto ci occuperemo di Lecce e provincia a dopo Ed eccoci all'informazione dedicata a Lecce apriamo con una tragedia è morto dopo il ricovero in ospedale il ciclista è vestito questa mattina sulla strada 101 Gallipoli Lecce sentiamo il servizio un ciclista è stato travolto da un camion poco prima delle 11 sulla strada statale 101 che collega Gallipoli a Lecce in direzione del capoluogo all'altezza dello svincolo per la città bella la corsa in ospedale è stata vana all'uomo soccorso da un'ambulanza del 118 e condotto con codice rosso al Vitofazzi di Lecce è morto poche ore dopo troppo gravi le ferite riportate ancora non è bene chiara la dinamica dei fatti la ricostruzione è affidata ai carabinieri della compagnia di Gallipoli intervenuti sul posto la zona è stata raggiunta anche dagli agenti della polizia locale che hanno regolarizzato il traffico purtroppo il luogo dove è avvenuto l'incidente è stato teatro di altre analoghe e tragedie è risultata difficile anche l'identificazione della vittima poiché al momento del sinistro non portava con sé documenti di identità ancora la cronaca in apertura del nostro TG dedicato a Lecce provincia coltellamento al termine di una lite per futili motivi nel centro della città capoluogo del Salento un uomo è finito in ospedale ferito ad una gamba rinfracciato dalla polizia l'autore dell'aggressione è stato arrestato per tentato omicidio è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Lecce un cittadino marocchino di 29 anni Er Ramih Mohamed per tentato omicidio di un suo connazionale e porto illegale di arma da taglio tutto è accaduto nel primo pomeriggio del 7 maggio scorso al culmine di una violenta lite in strada un uomo di nazionalità marocchina ha essato un coltello ferendo un suo connazionale l'alterco tra i due marocchini è iniziato tra via duca degli abruzzi e vico de argenteris nell'area compresa fra la stazione ferroviaria e il cuore della città da una prima ricostruzione sarebbero volate prima parole grosse e poi pesanti offese pare per futili motivi un uomo ha colpito la vittima afferendola in almeno due punti di una gamba raggiunto dagli operatori del 118 è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero gravi i fendenti infatti non hanno colpito alcun organo vitale al termine delle medicazioni e delle cure il ferito è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni l'aggressore si è dileguato a piedi nelle vie circostanti ma gli agenti della sezione volanti sopraggiunti per le indagini assieme ai colleghi della squadra mobile hanno fermato il presunto responsabile poco dopo lo hanno accompagnato presso gli uffici della questura per identificazione manifestazione di protesta questa mattina dinanzi a Palazzo Carafa a Lecce dove un gruppo di ambulanti ha chiesto aiuto al sindaco Salvemini urge la riapertura delle loro attività perché rischiano il collasso economico vedete è lo sfogo allarmato di chi si sente disperato e lo sono i venditori ambulanti che nelle ultime ore si sono presentati sotto Palazzo Carafa per protestare a Lecce contro quella che definiscono a gran voce una mancata attenzione nei loro confronti e nei confronti di una mancata riapertura delle proprie attività in una fase 2 di emergenza sanitaria che dovrebbe cercare di tutelarli maggiormente rischiamo il tracollo spiegano al sindaco Carlo Salvemini che però ricorda la sua impossibilità di decidere autonomamente la competenza aggiunge e del governatore di Puglia Michele Emiliano intanto la forma di protesta non tende a placarsi per un settore che risente pesantemente anche dell'invenduto in agricoltura una volta fiore all'occhiello dell'economia salentina siamo qua e ci colleghiamo qua stasera domani dopo domani perché lo sindaco lo dispiace solo una cosa che ci affattiamo e adesso ci spostiamo in provincia di Lecce a Veglie dove la minoranza in consiglio comunale chiede le dimissioni del sindaco sentiamo perché una mozione di sfiducia presentata da 10 consiglieri comunali nei confronti del sindaco di Veglie Claudio Paladini oltre alla minoranza e a quei consiglieri che si erano già dissociati dall'amministrazione 4 anni fa la mozione è stata votata anche da Fabrizio Stefanizzi e Giussi Nicolaci assessori fino a febbraio e poi dimissionari e da Valerio Armonico al quale era stata revocata la delega ai lavori pubblici appena pochi giorni fa nella mozione firmata da 10 consiglieri si chiede la convocazione di un consiglio comunale e si spiega così la mossa politica il sindaco risulta ormai essere sostenuto da un'azione politica ed amministrativa per la quale ha ricevuto mandato elettorale solo da una sparuta minoranza consigliare tra l'altro non più rispondente alla volontà elettiva del corpo elettorale la nota continua tenuto conto che proprio in questa fase di emergenza sanitaria ed economica il comune di Veglie ha la necessità di una guida politica forte e legittimata ad adottare atti di natura contabile ed amministrative eccezionali e tali da garantire in ogni caso il governo della comunità la minoranza chiede un consiglio comunale urgente per sottoporre la mozione ad appello nominale Claudio Paladini era stato eletto il primo giugno del 2015 Ancora cronaca politico-amministrativa ma da Veglie ci spostiamo nuovamente a Lecce per parlare di alcune iniziative della Giunta Salvemini sentite La Giunta Salvemini ha deciso di correrare il consigliere Andrea Guido e Galeotti sono stati una serie di posti che il consigliere avrebbe pubblicato proprio durante il periodo di lockdown con i quali nelle sue legittime facoltà di consigliere di opposizione secondo Guido avrebbe chiesto spiegazioni al sindaco Salvemini e dagli assessori in mezzo ad alcune decisioni politiche prese presunti ritardi e mancata trasparenza nella distribuzione di mascherine e buoni pasto questi i principali focus della polemica accesa in questi mesi insomma polemica affidata alle pagine social ma anche a comunicati stampa che richiedevano le risposte da parte della Giunta posto però che secondo la Giunta Salvemini riportavano in maniera falsa ed infondata le modalità adottate posto e commenti inoltre rafforzati da espressioni diffamatorie nonché da gravi e sconsiderate insinuazioni sui criteri di assegnazione in particolare secondo la Giunta quelle dichiarazioni enunciavano un'accusa esplicita contro l'amministrazione comunale nel suo complesso nonché rendendosi lesive dell'immagine e della reputazione sia del sindaco sia dell'assessore Silvia Miglietta a cui la decisione di presentare querela invece di querelarmi afferma Guido sarebbe stato più utile dire alle cesi quello che è successo perché le maschiline sono state distribuite con tanto ritardo ma soprattutto cosa sta succedendo con i buoni pasto ricevo segnalazioni di famiglie che hanno diritto e buoni e a cui è stato risposto che non li avranno di famiglie che hanno diritto e che non hanno nemmeno ricevuto una risposta e infine di famiglie a cui è stato detto di non aver diritto e che li hanno comunque ricevuti un pasticcio enorme e inaccettabile però invece di fare chiarezza di chiedere scusa ai cittadini salvemini mi querela mi auguro conclude Guido che questo serva almeno a costringerlo a fornire spiegazioni in un'aula di tribunale visto che non ritiene di darle nelle sedi politiche e amministrative una notizia di cronaca nera gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Galatina sono intervenuti presso un'abitazione in uso ad un cittadino gambiano che è stato denunciato unitamente ad altri due suoi connazionali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti infatti i poliziotti hanno trovato 87 grammi di marijuana e quasi 4 grammi e mezzo di cocaina ovviamente il tutto è stato sequestrato è stata trovata anche una somma in denaro in contanti 1235 euro probabile provento dello spaccio l'abitazione dei tre extracomunitari negli ultimi giorni era stata oggetto di un'attenta attività di osservazione da parte degli uomini del commissariato di Galatina che aveva permesso di evidenziare un continuo via vai di individui conosciuti dagli agenti come soggetti tossicodipendenti da Galatina a Tricase riprendono i cantieri di Tricase dopo il blocco dovuto all'emergenza coronavirus questa mattina siamo entrati in un'antica cisterna in fase di recupero ecco le immagini che vi proponiamo in esclusiva siamo a Tricaseporto con il sindaco di Tricase Carlo Chiuri allora stiamo entrando in uno di questi cantieri cosa vedremo qui sindaco questa è la famosa cisterna di Tricaseporto la cisterna che serviva per dare acqua alle navi da guerra e noi la stiamo recuperando si scenderà da sopra dalla piazza e sarà un percorso stupendo conoscevate già l'esistenza di questa cisterna o è avvenuta in un secondo momento? conoscevamo l'esistenza di questa cisterna la conoscevamo da molti anni però naturalmente era qualcosa di difficilissimo da recuperare adesso con dei finanziamenti interreg grazie anche al supporto dello IAM quindi del Siam di Bari quindi siamo riusciti poi a trovare appunto le somme per finanziare e poi attivare questo progetto da Tricaseporto a Marina Serra un'altra località stupenda questa un'altra località colpita da quel violento nubifraggio di qualche anno fa e si sta pian piano valorizzando questo territorio anche qui lavori in corso sì ecco questi sono proprio i lavori mentre quelli erano di una programmazione interreg questi sono i lavori che sono stati fatti o meglio che stanno eseguendo a seguito del tornado del novembre 2018 stanno rifacendo totalmente il piazzale antistante il santuario poi ovviamente continueranno i lavori abbiamo cambiato come vedete anche l'illuminazione e quindi è stata restituita dignità almeno speriamo in questo di restituire dignità a questo posto che è molto caro ai Tricasini qui siamo a Depressa frazione di Tricase un'altra struttura con lavori terminati ma che ancora deve essere inaugurata bloccata l'inaugurazione a causa del coronavirus ma ci sono altri progetti sì questo è un parco che è stato interamente concepito e realizzato con fondi comunali lo abbiamo fatto appunto per i ragazzi della frazione non lo abbiamo ancora inaugurato perché ovviamente i lavori sono stati fatti proprio in collimanza con il lockdown quindi sì speriamo che possano poi fruirne al più presto i ragazzi di Depressa e adesso ci occupiamo dell'Università del Salento e dell'apertura dei laboratori per gli studenti lezioni esercitazioni ed esami soltanto online almeno per il momento le nuove disposizioni dell'Unisalento di ramare dal rettore Fabio Pollice aprono solo la possibilità di svolgere in presenza alcune sedute di laurea o esami di profitto nel mese di luglio ma è una possibilità che andrà valutata in seguito per il resto almeno fino al 30 giugno resta tutto invariato con gli studenti davanti a un pc per seguire le lezioni e per svolgere gli esami rigorosamente in videoconferenza riaprono invece i laboratori scientifici che potranno essere frequentati da segnisti di ricerca tirocinanti e personale vario se autorizzati dai direttori di dipartimento due giorni a settimana il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 13 riaprono anche le biblioteche universitarie per il solo servizio di prestito e restituzione ma su appuntamento la richiesta di appuntamento peraltro deve pervenire almeno due giorni lavorativi antecedenti e non saranno ammissibili richieste di prestito giornaliero qualcosa si muove ma si resta davanti a un pc almeno per il momento introduciamo in qualche modo la nostra pagina sportiva ma restando a Lecce calcio e beneficenza la scelta di una serata leccese che nel corso della quarantena dopo aver donato mascherine a tutta la città ha scelto di produrre una serie limitata destinata ai calciatori del Lecce Calcio l'antica arte della sartoria è stata messa in ginocchio come tanti settori dal coronavirus ma quella capacità tutta manuale che si tramanda da anni è diventata un'importantissima risorsa per la produzione delle mascherine a questo punto va aggiunto un pizzico di passione per uno sport amato dagli italiani e per una squadra che è il simbolo del territorio il calcio e il Lecce e magari qualche buon amico che sostiene l'idea e allora ecco che prende vita il progetto le mascherine con il logo e i colori del Lecce la produzione è tutta artigianale da parte di Simona Buono Sarta Leccese che ha deciso di donare alla società giallorossa per permettere ai protagonisti del campionato di Serie A di allenarsi in totale sicurezza e con un pizzico di stile io faccio mascherine dall'inizio della quarantena ho cominciato quattro giorni dopo all'inizio della quarantena e le ho date tutte in beneficenza e niente regalandone una in particolare giallorossa pensando alla nostra squadra è venuta l'idea Claudio Vino mi ha dato una mano mi ha chiesto di fare le mascherine per la squadra e mi ha fornito parte del materiale e quindi è nata tutta questa Quanto tempo ci è voluto per produrre queste mascherine? A queste in particolare mi ci sono dedicata un attimino di più perché comunque sono state fatte un attimino più studiate e sicuramente poi è un lavoro artigianale di conseguenza quanto ci metto non lo so io in quattro cinque giorni gli hanno fatto un centinaio E restiamo sul tema dello sport perché riaprono i centri sportivi in Puglia ma con alcune semplici regole sentiamo quali Si può tornare nei centri sportivi dopo l'ordinanza della regione del presidente Emiliano la Puglia ha riaperto gli sport amatoriali e individuali come golf atletica corsa ciclismo vela pattinaggio tendis canoa canottaggio equitazione surf windsurf automobilismo motociclismo cocar tiro con l'arco tiro a segno e sport simili e centri sportivi allora si organizzano dando già le linee guida e alcune semplici regole nel tennis ad esempio permesso il singolo ma non il doppio bisognerà recarsi al campo con la mascherina igienizzare le mani e poi rimetterla dopo per finito di giocare la doccia va fatta a casa guai a lasciare indumenti personali in giro per il campo o per le aree comuni ancora per il tennis la mano non dominante dovrà avere un guanto monouso poi i consigli il cambio campo deve avvenire dal lato opposto rispetto all'avversario non alla stretta di mano prima di iniziare e ovviamente vietati gli affollamenti nei circoli fuori dal campo anche la bottiglietta d'acqua va portata da casa ma quantomeno è già un primo inizio un'ultima notizia prima di chiudere questa edizione dedicata a Lecce e provincia del nostro telegiornale i carabinieri ricordano che è necessario effettuare una serie di accortezze per le attività sono in corso infatti dei controlli alle attività produttive industriali e commerciali sull'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza covid-19 e pertanto chi non le rispetta rischia di commettere un reato chiudiamo così questa edizione di Lecce e provincia del nostro Tg grazie per la cortese e l'attenzione tra poco la nostra pagina sportiva arrivederci